Il dibattito politico si accende sulla necessità di una sola chiamata alle urne per il 28 maggio. Ecco i comuni calabresi al voto. A Catanzaro tanti candidati, ma la partita è tra Abramo e Ciconte. Serve un piano dell'occupazione per la Calabria, a dirlo il segretario nazionale della CGL Susanna Camusso, intervenuta nell'Ametino per promuovere la campagna referendaria su voucher e licenziamenti. Delitto di Ciro Marina, i sospetti sui vicini. I carabinieri a caccia di elementi utili alle indagini perquisiscono l'abitazione della coppia finita sul registro degli indagati. Sequestrate indumenti e asciugamani, si cercano le armi del delitto. Vicino l'annientamento dell'Andrangheta, il messaggio del procuratore di Reggio Calabria Federico Caffiero Derao nel corso dell'incontro promosso all'Università Mediterranea e gli esiti dei processi confermano il ruolo della zona grigia. Sport, occhio agli spareggi. Nel calcio, come nel volley, si guarda alla post-season. In Lega Pro, attenzione particolare su play-off e play-out, mentre in Superlega alvia il mini-torneo che mette in palio un posto in Europa. Un cordiale saluto da Rossella Galati. Benvenuti all'edizione serale del nostro telegiornale. Partiamo dalla politica. Si infiamma il dibattito romano sull'opportunità di celebrare l'Election Day per referendum ed elezioni amministrative. La data potrebbe essere quella del 28 maggio. Ma quali e quanti comuni calabresi al voto lo scopriamo nel nostro servizio. Il Consiglio dei Ministri ha fissato il 28 maggio la data per il referendum su voucher e appalti. E da questo punto sono in tanti a chiedere che nello stesso giorno si svolgano anche le elezioni amministrative previste nella finestra che va dal 15 aprile al 15 giugno. Anche per evidenti ragioni di risparmio di affluenza. Con l'Election Day il 28 maggio si risparmierebbero centinaia di milioni, garantendo al tempo stesso una vasta partecipazione. Hanno già dichiarato i capigruppo di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle. Così anche la Forgia, capogruppo del Movimento Democratici Progressisti, fratoi anni di sinistra italiana, la stessa Camusso, promotrice del referendum e segretaria della CGL, ma anche Emiliano, sfidante di Renzi e la segreteria PD. In Calabria la prossima consultazione elettorale coinvolgerà 83 comuni, sui 409 si trovano sul territorio regionale. Cinque di questi hanno una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nei quali sarà applicato il sistema elettorale maggioritario a doppio turno e quindi con eventuale ballottaggio qualora nessuno dei candidati superi il 50% dei consensi. Si tratta dei comuni di Acri, Paola, Gioia Tauro, Palmi e ovviamente Catanzaro, che è anche capoluogo di provincia. Ovviamente la sfida nel capoluogo sarà la più significativa dal punto di vista politico e servirà a misurare lo stato di salute delle coalizioni. Tra i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti si voterà anche a Bagnara e Bovalino dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose e anche a San Luca, dove a giugno dello scorso anno le elezioni non si sono svolte per assenza di candidati. Riccardo Tripepi per la CNews24. E a proposito delle elezioni amministrative a Catanzaro, sembrerebbe una sfida a due tra i candidati a sindaco Enzo Ciconte e Sergio Abramo, che stanno mettendo a punto alleanze e programmi, ma anche gli altri candidati non sono da sottovalutare. Continua a registrare consensi il candidato a sindaco di Catanzaro del PD Enzo Ciconte, che in questi giorni sta incontrando movimenti e associazioni per costruire una coalizione forte e credibile. Bisogna incontrare movimenti, associazioni e partiti più di una volta, chiaramente che sia un'aggregazione dal centro-sinistra allargando a tutto il centro. E gli ultimi in ordine di tempo a sostenere il consigliere regionale sono Calabria in rete di Flora Sculco, Adesso Catanzaro e Programma Popolare, una scelta scaturita dalla volontà di fare squadra e mettere insieme più soggetti che siano espressione della realtà sociale e professionale della città di Catanzaro, che faccia leva sulla figura di Ciconte come candidato capace di mettere la propria persona e la propria esperienza a servizio della città. La mia scesa in campo viene fuori perché vogliamo ridare dignità alla nostra città e all'area centrale della Calabria. E intanto il centro-destra prosegue la sua corsa con il sindaco uscente Sergio Abramo, che ha caldamente invitato i partiti e le liste che sostengono la sua candidatura a non accogliere nelle loro fila quei consiglieri uscenti che, eletti nel centro-destra, perseguono solo ed esclusivamente obiettivi personali e individuali. Parla di etica dunque Abramo, suscitando anche polemiche tra i suoi. È arrivato il momento di essere molto chiare, perché le campagne elettorali si fanno anche con molta chiarezza. Sembrerebbe una sfida a due, ma la partita rimane ancora aperta e gli altri candidati non sono da sottovalutare. Tra tutti il professore Nicola Fiorita, leader del Movimento Cambiavento, che si dice soddisfatto dei consensi fino ad ora raccolti. Rossella Galati per la CNews24. La Calabria ha bisogno di un piano dell'occupazione ancor più di altri territori. Così il segretario generale della CGL, Susanna Camusso, che ha iniziato dalla sede del call center Abramo a San Pietro Lametino il tour per promuovere la campagna referendaria. Bisogna recuperare e recuperare molto, per questo ancor più in questa regione vale un ragionamento di piano per l'occupazione, di utilizzo delle risorse ai fini straordinari. Bisogna proprio avere un'idea di utilizzo dei fondi strutturali, non per fare il solito repertorio delle strade lasciate interrotte tante volte, ma per invece costruire un investimento positivo. Susanna Camusso, segretario generale della CGL, lo sa bene. Fare campagna referendaria in Calabria dove la fame di lavoro e i massimi storici, la precarietà diventa quasi desiderabile rispetto all'ombra della disoccupazione, non è semplice. Per il tour calabrese la milanese ha scelto di partire dalla sede della Abramo Customer Car di San Pietro Lametino. Qui lavorano in centinaia, molti dei quali riusciti a passare indenni le acque in tempesta del fallimento Info Contact. A loro la Camusso si è rivolta spiegando i temi della campagna 2 sì per cambiare il lavoro. Iniziata la campagna elettorale, o meglio la fase 2, i quesiti sono chiarissimi. Il tema che noi proponiamo è abrogare due delle forme che determinano la maggiore precarietà del mondo del lavoro, i voucher da un lato e l'assenza di una responsabilità solidale negli appalti. Bisogna abrogare i voucher, non deve essere più uno strumento utilizzabile né nella pubblica amministrazione né nelle imprese. E se non gli appalti è il quesito proprio secco, bisogna ripristinare la responsabilità solidale tra l'appaltante e l'appaltatore. E cambiamo decisamente argomento il mondo nascosto delle case popolari calabresi e degli occupanti abusivi. Giovanissimi, poco più che maggiorenni, ma già con famiglie e figli a carico e senza un tetto sulla testa. C'erano anche loro ad occupare le palazzine di via Cianflone alla Mezzia Terme, noi li abbiamo incontrati. Ho 23 anni, due minori, quattro ore al giorno lavoro. Siamo quattro persone in una stanza e devo lasciare la casa. Ragazzi, ce ne hanno fatti fare, mi hanno fatto i fatti zero. Che dobbiamo fare? Dobbiamo andare a rompere un'altra palazzina. Questa giovanissima ragazza che sentite parlare nelle immagini è una di coloro che qualche settimana fa hanno sfondato, colpidascia, gli ingressi delle palazzine di edilizia sociale di via Cianflone alla Mezzia Terme. Un'occupazione durata poche ore grazie all'intervento repentino e non poco turbolento delle forze dell'ordine. La ragazza lo dice, le carte, la domanda di assegnazione della loggio popolare l'aveva fatta, ma mai aveva ottenuto risposta. E qui sta il nodo, perché l'aterpa ha bloccato le graduatorie e tra case libere e occupate abusivamente e case assegnate ma nella realtà vuote non viene a capo dei reali numeri che fotografino la situazione. E c'è chi intanto rimane per strada o sballottato da un parente all'altro, come questo ragazzo con la sua giovanissima fidanzata incinta di soli 17 anni. C'è 20 anni che ho occupato una delle case perché sono in una situazione un po' complicata della mia vita, mi trovo un po' in difficoltà perché non ho una casa, non ho una battente, non ho un lavoro fisso, non ho niente, proprio niente. Ho una ragazza incinta, una renna, non c'è una casa, non c'è dove andare. Giovanissimi ma già esasperati dal sistema e intanto le case di edilizia popolare diventano scheletri e stabili in rovina sempre più grotteschi, lasciando nell'esasperazione chi avrebbe bisogno di un tetto sulla testa. Tiziana Bagnato per la Cineus 24. Restiamo in tema ma ci spostiamo a Cosenza. Dopo aver occupato simbolicamente il settore welfare del Comune di Cosenza, i delegati del Comitato Prendo Casa hanno incontrato questa mattina l'assessore di Palazzo dei Bruzzi, Francesco Caruso, con l'obiettivo di trovare un'intesa per risolvere l'emergenza abitativa. La proposta dei manifestanti del Comitato Prendo Casa è quella di procedere all'autorecupero degli immobili cittadini per centrare il duplice obiettivo di recuperare il patrimonio edilizio fatiscente, evitare di consumare suolo urbano con la costruzione di nuovi alloggi, dare un tetto alle famiglie in condizione di bisogno. Idee messe sul tavolo nel confronto con l'assessore Francesco Caruso. Il componente dell'esecutivo di Palazzo dei Bruzzi ha ricevuto una delegazione del Comitato. Possibile riuscire a trovare un'intesa. C'è tanto patrimonio in città che potrebbe essere recuperato e utilizzato appunto per le emergenze. Noi oggi siamo qua perché a fine mese qui si discute il bilancio e noi ci teniamo che nel bilancio di fine mese la questione dell'autorecupero che è stata un'idea che noi abbiamo portato avanti fin dall'inizio dalle nostre occupazioni abitative possa diventare realtà, nel senso che anche l'amministrazione negli anni passati aveva dato parere positivo su questa storia, però pensiamo che adesso debba diventare una cosa concreta. Oggi si è aperto il dialogo. Servirà a osservare tutti i passaggi richiesti dalle norme per giungere ad una soluzione anche parziale del disagio vissuto dall'esercito dei senza casa. Salvatore Bruno per la Cineus 24. E voltiamo pagina. Siamo ora alla cronaca. A Ciron Marina proseguono serrate le indagini sull'omicidio di Antonella Lettieri. I sospetti si concentrano sulla coppia già iscritta sul registro degli indagati insieme ad un terzo uomo. Più passano le ore più il cerchio sembra stringersi, ma non si attenua la rabbia per quel delitto così efferato compiuto contro una donna sola, minuta, che ha cercato fino allo stremo di difendersi e di aggrapparsi alla vita. I carabinieri della compagna di Ciro, diretti dal capitano Alessandro Epifanio e coordinati dalla comandante provinciale Salvatore Gagliano, non mollano la presa e stanno passando a setaccio non solo la vita privata di Antonella Lettieri, ma anche quella delle persone vicine alla giovane commessa, trovata morta in una pozza di sangue all'interno del suo appartamento il 9 marzo scorso. Tre, le persone formalmente indagate, un coetaneo con cui la 42enne si frequentava e una coppia di amici a cui gli investigatori hanno posto sotto sequestro un piccolo arsenale regolarmente detenuto e analizzato gli scarichi fognari, oltre che messo sotto sequestro della biancheria. Intanto continuano i rilievi dei ris di Messina nell'appartamento della donna, la speranza è che sotto le sue unghie si possa nascondere la chiave del delitto. Il nome di chi si è accanito su di lei con ferocia, colpendola prima con 12 fendenti sul corpo e poi con altri venti sul capo, sfregiandole il viso. Nella fiaccolata che le è stata dedicata e che ha visto scorrere per le strade del paese suoi concittadini ed amici, oltre che sindaci e politici, è stata chiesta a gran voce giustizia per la gemellina, così come era ancora chiamata Antonella. Antonella che lavorava nel supermarket della sorella gemella, Antonella che nemmeno 24 ore prima della sua morte aveva compiuto 42 anni. Tiziana Bagnato per la CNews 24. Quattro anni e sei mesi di reclusione per l'ex presidente dell'ASI Cosenza, Diego Tommasi, e cinque anni di carcere per il direttore generale dello stesso consorzio, Stefania Frasca. Assolto il responsabile dell'area contabile, Carlo Rango. Questa la sentenza del Tribunale collegiale di Cosenza nel processo per la presunta gestione allegra del consorzio di sviluppo industriale. Truffa, falsità documentale e abuso d'ufficio. I reati a vario titolo contestati per fatti che coprono un arco temporale che va dal 2008 al 2014. I condannati, quale pena accessoria, sono stati anche interdetti dai pubblici uffici. In perpetuo la Frasca, per cinque anni, Tommasi, ex assessore della Regione Calabria. Il Tribunale ha inoltre disposto la confisca delle somme dei beni in sequestro per un importo di oltre 110 mila euro. E voltiamo pagina. Non è lontano il momento del cambiamento e del totale annientamento dell'Andrangheta. Così il procuratore capo di Reggio Calabria, Federico Caffiero Derao, durante un seminario sulla criminalità organizzata all'Università Mediterranea su iniziativa dell'Associazione Universitaria New Deal. Chi viene favorito dall'Andrangheta finisce poi per diventare uno schiavo. Basta un solo sì per perdere la propria libertà. È una lucida analisi quella che il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Federico Caffiero Derao, fa davanti a una numerosa platea di studenti all'Università Mediterranea. Mi piace che la gente cominci a credere che si può cambiare e credo che non è lontano il momento del totale cambiamento e dell'annientamento dell'Andrangheta. Parole che arrivano il giorno dopo della pubblicazione del rapporto AgroMafia e della Coldiretti, che mostra come il sistema agroalimentare si è controllato dalla mafia e in testa alla classifica c'è proprio Reggio Calabria. Un vaso di Pandora già scoperchiato dalla procura regina e dalle indagini sul clan Piromalli e il falso olio extravergine d'oliva. Tutto questo ci dimostra come in qualche modo tanto si stia evidenziando e stia venendo allo scoperto quanto male fa l'Andrangheta al nostro mercato e alla nostra salute. E quindi quello che qualcuno ha detto, stare con l'Andrangheta conviene, non è assolutamente vero e smentito quotidianamente. Stare con l'Andrangheta significa essere mafiosi e contro i propri simili, creando un danno per la salute e per la libertà. Dominella Trunfio per la Cineus 24. E sono parole importanti quelle del procuratore Derao, che fanno seguito ai risultati che la magistratura in Calabria sta acquisendo. Guardiamo ad esempio al processo denominato Rifiuti 2, pedine essenziali per la cosca a Lampi. Così il giudice ha definito nella sua sentenza due noti avvocati reggini condannati per associazione mafiosa. Gli avvocati si sono lasciati coinvolgere nell'attività dei loro clienti mafiosi, abdicando a proprie funzioni professionali, diventando soci in quell'attività criminale organizzata. Usa parole durissime il GUP Antonio Scortecci nelle motivazioni della sentenza Rifiuti 2, depositata nei giorni scorsi con cui furono condannati a otto anni di reclusione due noti penalisti reggini, gli avvocati Giulia Dieni e Giuseppe Putortì, accusati di 416 bis. Per il giudice entrambi sono pienamente inseriti all'interno del clan con specifici ruoli orientati al soddisfacimento delle esigenze della cosca. Li definisce pedine essenziali il GUP, che elenca poi tutte le condotte contestate ai due legali, concludendo con un'espressione che somiglia molto ad un ritornello. Occuparsi degli affari del clan non è legittimo esercizio della professione forense. Consigliare e supportare la cosca per evitare i sequestri non è legittimo esercizio della professione forense. Fare tanti colloqui in carcere strumentalizzando una nomina non è legittimo esercizio della professione forense. Ma allora che cos'è tutto questo? Scortecci va giù duro. Per Giulia Dieni spiega si tratta della posizione associativa di un professionista stabilmente piegato alla cosca Lampi, di un consigliore della consorteria, in piena coscienza e volontà. Per Putortì invece si tratta di un postino e messaggero che recapita missive su questioni di vitale importanza. Ce n'è anche per l'ex amministratore giudiziario Rosario Spinella. Senza di lui, scrive il GUP, gli Lampi non avrebbero continuato ad ingerirsi indebitamente nelle aziende ed attuare così il loro progetto dranchetistico imprenditoriale. Consolato Minniti per la CNews 24. E a Cosenza invece, proprio per esorcizzare eventuali infiltrazioni nel settore dei rifiuti, il sindaco Mario Occhiuto si rivolge all'autority anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone. Fa gola non soltanto alle aziende, ma anche alla criminalità, all'appalto per l'affidamento del servizio integrato di igiene urbana della città di Cosenza. Il bando è pronto per essere pubblicato, il valore di circa 44 milioni di euro spalmato su cinque anni. Prevenire possibili tentativi di infiltrazioni illecite e d'obbligo, soprattutto in una regione come la Calabria, ad alto indice corruttivo. Per questo Mario Occhiuto ha preso carta e penna ed ha inviato copia degli atti all'autorità nazionale anticorruzione. Il sindaco chiede vigilanza collaborativa e tutto il supporto possibile nell'espletamento delle procedure di affidamento. Attualmente il servizio viene svolto dalla ditta Ecologia Oggi. Il contratto, scaduto nell'agosto dello scorso anno, è stato prorogato di sei mesi in ragione di una clausola del contratto stesso. Poi l'amministrazione comunale ha deciso per una ulteriore proroga in attesa di effettuare il nuovo appalto, una scelta che ha mandato l'opposizione su tutte le furie. Sarà un bando europeo dal quale però sono stati parzialmente esclusi i servizi di spazzamento da affidare in un secondo momento alle cooperative. Salvatore Bruno per la Cineus 24. E restiamo a Cosenza ma cambiamo decisamente toni. Per iniziativa della fondazione Animed, lo stadio Marulla proprio di Cosenza ospiterà il prossimo 8 aprile un triangolare di calcio a fini benefici. Vediamo. La lotta al femminicidio ed il contrasto alla violenza di genere uniti ai valori dello sport per iniziativa dell'associazione Animed. La partita del cuore si disputerà l'8 aprile prossimo allo stadio Marulla di Cosenza con la partecipazione della nazionale magistrati, della squadra dei sindaci e delle donne parlamentari. Il sangue rosa Un'altra vita è possibile è il tema dell'evento, preceduto da una tavola rotonda in programma al Castello Svevo, cui interverranno magistrati, rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Coinvolte inoltre le scuole della provincia, gli studenti assisteranno gratuitamente al triangolare. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto ai centri di violenza operanti sul territorio. L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa alla quale ha partecipato anche il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto. Ancora c'è tanto che si può fare, soprattutto per quel che concerna la sfera di tutela di chi denuncia, perché ricordiamo che denunciare è il primo passo, è forse quello più importante, ma è anche poi importante fornire a chi subisce un tale tipo di violenza una tutela che consenta davvero poi di continuare a vivere in maniera serena e libera la propria vita. Nel primo calcio sarà dato da Sua Eccellenza il prefetto e la cosa importante da dire è che tutto ciò che sarà raccolto con gli ingressi in istadio, sarà interamente devoluto ai centri antiviolenza presenti sul nostro territorio. Salvatore Bruno per la CNews 24. E a proposito di sport, continuiamo con il calcio. Nonostante manchino nove partite al termine del campionato, in Lega Pro si guarda ai play-off e ai play-out. Ma come funzionano e quali le novità introdotte, ve lo spieghiamo nei nostri servizi. Nove partite al gong, poi sarà post-season in Lega Pro. Diverse le novità introdotte, soprattutto nel mini-torneo che regalerà l'altro pass d'accesso alla Serie B. Play-off, nuovi di zecca in terza serie. Nove le squadre partecipanti, tre le fasi, prima, seconda e final eight. Al primo step accederanno le otto squadre per girone, classificate dal terzo al decimo posto. La terza affronterà la decima, la quarta, la nona, la quinta, l'ottava, la sesta contro la settima. Tutto in gara unica sul campo della squadra meglio classificata al termine della regular season. Chi vince accede alla fase successiva, dove entreranno in gioco anche le tre seconde classificate, una per girone, più la vincitrice della Coppa Italia di Lega Pro. Le otto formazioni vincenti voleranno in final eight, dove i quarti di finale verranno disputati con match di andata e ritorno, mentre semifinale e finale si giocheranno in gara unica. Sale l'allarme a retrocessione tra le calabressi di Lega Pro almeno per tre delle nostre quattro formazioni inserite nel girone C di terza serie. Rischiano Catanzaro, Regine e soprattutto la Vibonese, oggi ultima, e prima candidata allo scivolamento tra i dilettanti. La speranza dei rosso-blu di Campilongo è quantomeno a ciuffare il miglior posto in griglia play-out. Riviste corretti quest'anno dalla Lega di Firenze. Le squadre coinvolte saranno sempre le penultime, le terzultime, le quartultime, le quintultime di ogni girone. La quintultima affronterà la penultima, mentre la terzultima sfiderà la quartultima. Fondamentale posizionarsi al meglio al termine della regular season, vantaggio che permetterà la disputa del match di ritorno sul proprio campo. Attenzione però al fattore di stacco. Se superiore ai 10 punti tra quintultima e penultima, anche questa scivolerà direttamente tra i dilettanti. Stessa cosa con un distacco superiore ai 5 punti tra terzultima e quartultima. Alessio Buonpasso per la Cineus 24. E nel volley invece è partito il countdown che porterà la Tonno Callipo Vibo a giocarsi, il pass d'accesso alla Challenge Cup, un obiettivo a cui i giallorossi puntano fortemente, come conferma ai nostri microfoni il centrale David Costa. Riprende la preparazione. Tonno Callipo ha lavoro per studiare sotto tutti gli aspetti il prossimo impegno di una stagione infinita. Archiviato ormai i playoff scudetto, battuti da Civitanova, i giallorossi sono ormai proiettati verso un altro importante capitolo da scrivere. Tra due settimane infatti la Tonno Callipo scenderà in campo contro Ravenna. Al pala Valencia andrà in scena a gara 1, valida per i quarti di finale playoff Challenge Cup. Proprio tra le mura amiche, la Callipo disputerà gli incontri decisivi. Da sfruttare perciò il fattore palazzetto, che è molto arregalato durante la regular season. Coach Cantor dovrà rinunciare a Reilek, almeno momentaneamente, mentre è ripreso ad allenarsi Baptist Gayler. Il martello transalpino era fuori ormai da quasi un mese, a seguito dell'infortunio rimediato al pala di André, proprio contro Ravenna. Dunque una pedina importante, dato che il francese insieme a Michalovic ha registrato le migliori prestazioni durante questa stagione. Ravenna non è di certo una formazione nuova per la Tonno Callipo e nei precedenti incontri l'ago della bilancia pende dalla parte dei giallorossi con cinque vittorie. Credo che adesso andiamo a fare un playoff in quinto posto, buono, contro Ravenna, che è una grande squadra. Vediamo, andiamo a allenare queste due settimane per restare carico per la partita. Maria Chiara Sigillò per la CNews 24. Ed era l'ultimo servizio per questa edizione. Grazie come sempre per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori.